Il terzo gol della gara, un ballone che è andato a sbattere al palo interno, è entrato dentro, nonostante una leggera deviazione del portiere. Ci giochiamo al risultato di 3 a 1 a favore della Vittorio Stefano. Ecco la panchina, bella tutta felice. Ecco abbiamo il nostro secondo portiere Daniel, abbiamo Nicolò che viene... Ecco la panchina, bella tutta felice.